Buongiorno, io sono Bartolo Ansaldi per Gallery Teachers. Oggi abbiamo una puntata davvero speciale in italiano. È la prima volta che lo facciamo, vediamo come finisce. Abbiamo un ospite, abbiamo una celebrità nel mondo dell'insegnamento dell'inglese, un compositore, un grande musicista, un insegnante universitario all'Università di Bologna. Una celebrità, signore e signori, Charles Goodger! Put two hands up, press your thumbs to your cheeks, wiggle your fingers, stamp your feet, now hang your arms, move your body around, doing the Monster March. Monsters, monsters, from outer space we come. We terrify the children and the animals, but we're really just having fun. Monsters, monsters, from outer space we come. We terrify the children and the animals, but we're really just having fun. Poi i bambini si divertono. Il discorso è questo, che queste canzoni sono dei veicoli molto utili per presentare delle nuove parole nel contesto di un'attività dinamica di movimento. E' chiaro, questo metodo funziona a qualsiasi età, anche per un principiante, lo usiamo anche con gli adulti. E' un po' più difficile però utilizzare questo metodo con i bambini più grandi, no? Della, diciamo, della quinta primaria, scuola media, perché lo vedono come una cosa per i più piccoli. Per i bambini che stanno cominciando l'inglese nei primi tre o quattro anni della scuola primaria, è un metodo molto apprezzato, ok? Sono privilegiato di avere tanti insegnanti, non solo in Italia, che utilizzano questa metodologia. Noto che parli molto bene l'italiano. Questa è una cosa molto rara, secondo me, tra gli inglesi. Guarda che io ho imparato l'italiano all'età di più o meno 24-25 anni, quindi diversi anni fa, ma si sente che ho l'accento, no? E questo è un discorso molto interessante, perché il mio figlio, che è sua madre italiana, non ha nessun accento, perché lui ha imparato l'inglese da piccolo, e riesce a parlare l'italiano, l'inglese, senza... non si sa se è inglese o italiano. E questo è tutto un discorso della plasticità del cervello. Quando il bambino arriva all'adolescenza, è come il cervello si chiude, da un punto di vista di apprendimento della pronuncia perfetta madrelingua, è molto difficile acquisirlo, proprio per il fatto che la tua bocca, gli organi del parlare, sono talmente abituati a lavorare con la tua madrelingua, i suoni vocali, che parlare bene una lingua straniera, soprattutto l'inglese che ha dei suoni vocali che sono ben diversi dell'italiano. Allora, ad esempio, si pensa del famoso schwa, no? Bird, girl, quindi l'aspetto della pronuncia è molto interessante, soprattutto per i bambini di tenera età, è importantissimo avere l'accesso a un inglese, non dico necessariamente di madrelingua sempre, perché è difficile avere sempre il madrelingua, è anche costoso per le scuole, però meno avere un insegnante d'inglese che ha una pronuncia intelligibile, buona, e che non dice to, to woman. Oltre a insegnare l'inglese, porti anche la cultura, le tradizioni, gli usi e costumi del tuo paese. Mi ricordo una canzone che mi piace, che avevi scritto di Halloween. Sì, Halloween. Sì, perché le canzoni che scrivo, che ho scritto, sono soprattutto il risultato di insegnanti di scuola primaria e italiani che mi hanno chiesto di fare, scrivere una canzone su questa tematica, scrivere una canzone sulla Pasqua, scrivere una canzone sulle festività. E ovviamente Halloween è una festività di grande fascino e curiosità per i bambini. Io ho anche una canzone su Robin Hood, oggi, no? Se il famoso... Una grande fan di Robin Hood. Sì, 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 no, abbiamo fatto degli... abbiamo anche gli spettacoli, Robin Hood Show con i burrettini bilingue, che è una cosa che facevamo con grande successo prima del Covid. Non conosco questa canzone, ce ne fai sentire un pezzettino, hai voglia? Ma di solito lo suona al pianoforte. Sì, 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 sì. Robin Hood, Robin Hood, the boldest in the land. Robin Hood, Robin Hood, and we are in his band. Grazie, grazie. Sono grande fan di Robin Hood e grande fonte di ispirazione per la mia vita. Tu sei... va bene, noi ci diamo del tu perché parliamo in inglese, quindi ho dato per scontato. No, è divertente parlare con te perché abbiamo sempre fatto tutto in inglese e infatti devo complementare Bartolo del suo inglese, che veramente lo parla benissimo, è un modello. E anche io, basta sentirmi, il mio italiano non è perfetto, il suo inglese non è perfetto, ma chi se ne frega, l'importante è capire, no? E per quello che io sono anche un po' critico di queste ossessioni con la grammatica, che ci sono degli insegnanti che se non è grammaticalmente perfetto, ma la grammatica è utile, è utilissimo, però non è la cosa più importante nella lingua straniera, sono le parole, il senso delle parole. Allora se due persone riescono a comunicare e il messaggio viene percepito, cioè allora la funzione di basi di una lingua di comunicazione in suono è stato compiuto o no? Sono d'accordo al 100% con te, infatti una differenza che ho notato tra gli insegnanti di inglese italiani, stranieri, e quelli madrelingua è che in madrelingua mettono molto accento sul insegnare l'accento. Una cosa che io non capisco tanto, perché quando sento uno straniero che parla italiano con un accento, con un finto accento italiano, a me sono ridicolo e preferirei che fosse palese come faccio io, io non cerco di nascondere il mio accento italiano, so di avere un accento italiano. No, perché dovresti, anzi è esotico, è interessante, l'importante è con un accento, una cadenza straniera, e che quello che si dice è intellegibile. Quindi non si parla più dell'inglese RP, Received Pronunciation, o Pure American English, o whatever. L'importante è l'intellegibilità, e che uno è in grado di pronunciare l'inglese in modo che un giapponese, un turco, o uno di Venezuela, possa capirlo, e viceversa, no? È molto interessante vedere anche il ruolo della lingua inglese nell'Unione Europea, soprattutto post-Brexit. Oggigiorno chi studia l'inglese non è necessariamente amante della cultura inglese, lo fa per motivi pragmatici. E questo incide un po' su come si insegna anche. Adesso siamo in una realtà in cui la lingua fondamentale per l'Europa non è parlata da nessuno come prima lingua, nel momento in cui il Regno Unito è uscito dall'Europa. In questo senso, secondo me, vuol dire che l'inglese sarà usato sempre di più come lingua franca e neutrale. Mi piace parlare di cultura con te, del modo in cui tu usi le tue canzoni per esportare la cultura in un modo più semplice. Non so se si può parlare della tua collaborazione con uno dei più grandi cantanti italiani di tutti i tempi, che è Albano. Sì, 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 no, per me è stato un onore. Albano è un personaggio molto particolare, con una voce bellissima, è una grande storia della musica popolare italiana, è conosciutissima in molti paesi del mondo, in Inghilterra nessuno lo conosce, e questo è interessante, io dico, oh, io ho fatto una canzone con Albano, a Londra, ai miei amici, ai fratelli, a Londra, ma chi è Albano? Chi è Albano? Nenuno lo conosce. E questo è interessante, perché in Inghilterra non siamo abituati ad ascoltare delle canzoni che non capiamo. Tu hai fatto con lui una canzone che mi sembra che fosse terra d'ambra e di emozioni. Sì, non è stata, è nata semplicemente da una richiesta, da un insegnante che usava le mie canzoni, fan songs, nelle sue lezioni a Riga, io ho abitato a Riga per cinque anni, e mi ha chiesto, Charles, can you please write a song about Latvia? E quindi io ho scritto queste canzoni sulla Lettonia, poi sono tornato in Italia, ho conosciuto un paroliere molto bravo che si chiama Alberto Zappieri che ha fatto una versione in italiano e l'abbiamo inviato a Albano e niente, dopo un po' di tempo ci ha contattato e lo voglio registrare e l'ha fatto e quindi è uscito e ha avuto un certo successo anche e per me è interessante perché mi dà una credibilità come autore di canzoni, come compositore, perché ci sono tantissime canzoni su YouTube, sull'internet per l'inglese, spesso non sono banali le canzoni dei corsi dei bambini, mi piace pensare che le mie canzoni riescono a trascendere quella banalità di molti canzoni, perché sono canzoni che riescono a essere in piedi come canzoni in sé, e il fatto di avere un grande cantante come Albano che ha preso una mia melodia, una mia canzone, la canzone è anche in inglese, con le mie parole, è un misto, è stato per me una cosa molto interessante. Tra l'altro Albano è impegnato anche a promuovere la cultura italiana. È molto conosciuto, sì, sì, certo. Infatti io l'avevo conosciuto all'ambasciata italiana a Riga, in Lettonia, nel 2008, questi diversi anni fa, per celebrare il giorno della donna, l'8 marzo, c'è stato questo grande concerto di cantanti italiani, c'era anche Albano, c'era Puppo, Toto Cotugno, e tutti questi big, che forse in Italia non sono famosi come una volta, perché ormai sono abbastanza anziani, e sono riusciti l'impresario Lettonia a riempire tutto lo stadio più grande dell'ice hockey, che è un posto per 50.000 persone, con tutti questi cantanti, e penso che Albano è arrivato dentro lo stadio, travestito come Giulio Cesare, come un imperatore, tutte queste cose, veramente pazzesche, della cultura italiana, romana, su un caretto con dei cavalli, è stato molto divertente, però forse, per chi apprezza la vera cultura italiana, di pessimo gusto. hai anche una società in Inghilterra che fansongs vedo dietro di te? Una società, una piccola organizzazione, che sì, abbiamo un sito web soprattutto, e lì sul sito, se ti interessa, puoi andare a trovare dei action song packages, che costano 5 euro, credo al momento, poi c'è la licenza per la scuola, che può comprare la licenza, e non sono solo le canzoni, c'è tutto l'apparato, ci sono i schede di lavoro, graduati, i video, diversi MP3 per ogni canzone, spiegazioni di come è meglio integrare la canzone dentro il corso, perché il problema è che molti insegnanti hanno già loro il libro di corso, e le canzoni seguono spesso le stesse tematiche lessicali che ci sono nei libri, quindi è un'ottima idea per, diciamo, galvanizzare i bambini di insegnare la canzone prima di fare l'unità su un determinato tema. Se una scuola fosse interessata ad averti per uno spettacolo, come funziona? Ma noi abbiamo degli spettacoli che facciamo con degli attori in madrelingua, ma non sono madrelingua che facevamo, perché ovviamente in questo periodo non si può, dove andiamo nella scuola e allestiamo un teatrino e abbiamo un sistema di burrettinaggio bilingue. In Italia abbiamo due burrettini, uno si chiama Britty and he speaks English e poi chiediti che parla l'italiano molto più velocemente di Britty who speaks very slowly so the children have more time to lavorare, di processare, to process the English e poi diamo agli insegnanti del materiale proprio di utico per preparare i bambini. L'idea è che funziona molto bene, abbiamo fatto gli spettacoli in tutta l'Italia, ma questo prima, che i bambini che escono dello spettacolo hanno già imparato due o tre canzoni animati che dopo in classe gli insegnanti puoi riprendere il discorso e diamo anche i materiali delle canzoni gratuitamente alla scuola che ordina lo spettacolo. Basta contattarmi tramite il sito Fansongs ci sono tutti i contatti. Fate anche degli spettacoli online o state pensando? Sì, 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 abbiamo fatto con successo una serie di online Zoom shows with children quando i bambini anche a casa, ma più di spettacoli per i bambini online perché è molto meglio se si riesce a farlo direttamente con i bambini come un abbinamento dell'entrettenimento, della comicità, infatti i nostri spettacoli sono molto funny, no? Ridono molto il tempismo, il timing, quasi pantomime, pantomime, invece online faccio più i teacher training per gli insegnanti che acquistano la licenza, allora una scuola che compra la licenza Fansongs ha la possibilità di avere un corso con me online in cui io spiego esattamente come fare da un punto di vista anche informatico. Quindi per chi fosse interessato il sito è fansongs.co.uk e potete parlare direttamente con Charles Gugger. Sì e poi dico un'altra cosa che fra poco io spero di lanciare un podcast video proprio indirizzato agli insegnanti di inglese con delle pillole interessanti su aspetti del teacher tips and language tips for teachers perché spesso gli insegnanti non hanno tanto tempo per ascoltare l'inglese, hanno famiglia, hanno un lavoro abbastanza una vita abbastanza intensa e quindi l'idea di creare un podcast che uno può ascoltare anche con le cuffie mentre sta andando al lavoro facendo no sarà in inglese però in inglese molto diciamo non banale non semplicissimo ma accessibile no in modo che ascoltare la mia pronuncia in inglese che dovrebbe essere abbastanza giusto possa essere interessante perché chi lo ascolta e ascolta anche delle tematiche proprio di pertinenza al proprio lavoro come teaching tips e language tips e spero di poter lanciare questo nelle prossime settimane chi fosse interessato come può avere maggiori informazioni ok allora noi come fan songs abbiamo ovviamente il facebook page abbiamo il blog sul nostro sito c'è anche un instagram e questo è tutto grazie per essere stati con noi in questa puntata speciale in italiano improvvisata io sono Bartolo Ansaldi per Galleria Teachers e con noi c'è stato Charles Gugger se volete scrivere sul nostro blog oppure essere intervistati per questo canale iscriveteci a editorial.galleryteachers.com Charles ti ringrazio molto per la tua disponibilità in questo esperimento in italiano prima di lasciarci ci fai sentire un'altra canzone un pezzettino magari questo si chiama Time to Play proprio per i bambini piccoli e fa così 1,2,3,4 I can't say what's the time Time to play 5,6,7,8,9,10 Time to play a game Hip hop Hip hop Up and down Clap my hands Turn around Bend my body Like a snake In a tree By a lake Jumping 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 Round and round Stamping 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 On the ground On the ground